Ciao a tutti, sono Evelyn, bentornati nel mio canale e nella mia pagina. Qui parliamo dell'attualità, dell'immigrazione, combattiamo la discriminazione in tutte le sue forme. Se l'argomento ti può incuriosire, iscriviti sul canale, metti mi piace su questa pagina e lascia un commento o mi piace sotto questo video. Oggi parliamo dell'appropriazione culturale. Ho ricevuto molte domande come questa. Da un po' di anni c'è questa sorta di polemica sul fatto che le persone della pelle bianca usino le treccine o nella moda europei si usi tessuti africani. O piuttosto la tendenza della danza afro in Europa. Di conseguenza molti black chiamano questa tendenza appropriazione culturale. Ho trovato molto interessante questa domanda del mio follower e di conseguenza ho deciso di rispondere con un video e dare il mio punto di vista. Per capire bene cosa significhi appropriazione culturale, dobbiamo tornare all'epoca precoloniale. Da sempre la bellezza della donna africana è legata ai suoi capelli oltre alle sue forme. Per esprimere la sua bellezza la donna nera fa delle opere d'arte con le sue acconciature. E con la schiavitù l'uomo nero e la sua cultura fu sminuito e dispregiato. Ma durante la schiavitù la acconciatura della donna nera non era soltanto l'espressione della bellezza. Era qualcosa in più perché su quelle trecine si disegnava veri e proprio via di fuga. Perché tenere la mappa con sé era pericolosissimo. Quindi con le trecine si disegnava proprio delle mappe per la fuga. Abolito la schiavitù subentrò il colonialismo. Aveva per obiettivo di portare la civiltà a quel nero chiamato indigeno. Quella civiltà europeo imponeva all'africano di adeguarsi al modo di vivere europeo. Questo consisteva. Per farsi accettare nella società europeo quel nero doveva avvicinarsi un po' al colore del padrone. Doveva schiarirsi la pelle. Lì nacque le creme a base dell'idroquinone fatte apposta per la pelle nera. Doveva anche lisciarsi i capelli per rispecchiare lo standard della bellezza europea. Da lì nasce anche l'uso dell'extension. Per decenni questa mentalità di spregiativo fu inculcato all'africano fino a convincerlo che tutto quello che è era sbagliato. Questa mentalità esiste ancora ad alcuni africani. Dopo la rivolta africana che mise fine al colonialismo i primi leader africani subito dopo il colonizzatore la prima cosa che hanno fatto era ripristinare quella cultura e quelle usanze dispregiate dal colonizzatore. Da subito hanno iniziato a lottare per rivalorizzare quella cultura e trovare il suo posto nel mondo occidentale. Nel mio Congo c'era Mobutus e Seseco Kukungendo Wasabanga che una volta al potere la prima cosa che fece cambiò il nome del mio paese dal Congo belga al Zaire. Poi vietò la moda vestimentaria dell'europeo. Niente abito da uomo stile europeo. Le donne non dovevano mettersi pantaloni e camicie stile europeo. Durante i suoi 32 anni di potere gli uomini mettevano a Bacos un vestito da uomo fatto con tessuto africano. E le donne potevano usare solo il panne, il nostro tessuto africano. Niente extension, solo capelli naturali. Perché si doveva tornare a valorizzare le acconciature della donna africana. Durante tutto il tempo che fu al potere, fece gli esempi, lui e le sue due donne si vestivano soltanto di panne. E le donne, le sue donne, avevano solo le acconciature naturali. Anche in America, con il discorso di Marcus Kray e la rivoluzione dei Black Power, i neri hanno fatto un gran lavoro per ripristinare e valorizzare l'identità dell'essere nero. Accettarsi, poi imporsi nella società. Con il suo colore, i suoi capelli, la sua morfologia intesa come il suo naso e le sue forme. La parola appropriazione culturale fu usata per la prima volta negli anni 50. Mentre si sminuiva ancora le acconciature nere africanee, un attore americano di nome Bo Derek fece parlare tanto di sé. Perché in uno dei suoi film, Ten fece delle treccine. E le fu attribuito tutto merito per il look. E questo fu un colpo inaccettabile per la comunità Black. Perché lo stesso look sui neri veniva definito da ghetto o banalmente bruttino. Tanti afroamericani a quell'epoca venivano licenziati e discriminati nei lavori solo per l'acconciatura. Di conseguenza i capelli afro per una persona nera non è soltanto moda, è anche un modo per rivendicare l'identità che per secoli le è stata rapita. In questi tempi moderni, a giorno d'oggi, non possiamo più parlare dell'appropriazione culturale. Il fatto che la società europea riconosca la bellezza nera nella sua diversità, imitando le sue acconciature, la sua moda vestimentaria, piuttosto la sua tradizione del ballo, non è un'appropriazione culturale, ma semplicemente una valorizzazione della cultura nera. Abbiamo lottato tantissimo pur che questa cultura trovasse il suo posto nella società che lo aveva sempre dispregiato.